Inaugurata all'interno del municipio di Pordenone la sala Missinato, in ricordo del fotografo che ha raccontato la città attraverso i suoi scatti, molti dei quali diventati storici. L'intitolazione a Missinato della ex sala rossa è avvenuta dopo il suo completo restyling estetico e architettonico. Presente al taglio del nastro, i familiari con il figlio Michele. Oggi sono molto felice per quello che la giunta comunale di Pordenone e il comune di Pordenone abbiano fatto, soprattutto il sindaco Alessandro Ciriani. Sono felice e orgoglioso di tutto questo, perché Aldo Missinato se lo meritava. È stato il fotografo della gente, il fotografo di Pordenone, tutti lo hanno conosciuto e merita, meritava e merita ancora qualcosa. Però siamo molto a buon punto. Io sono felice e contento. Voglio continuare il suo lavoro, lo sto continuando da 17 anni, per far sì che la memoria di Aldo sia sempre presente fra la gente di Pordenone. Sindaco, nasce la sala Missinato in onore di una figura storica di Pordenone? Beh, certo. Una città è un territorio trae la propria identità, dalla propria conformazione urbanistica, dalle bellezze paesaggistiche, naturalistiche, dalle sue manifestazioni culturali, ma anche e forse soprattutto dei personaggi che l'hanno vissuta, che l'hanno voluto bene e che l'hanno valorizzata. Da questo punto di vista Aldo Missinato ha descritto per decenni la storia di Pordenone attraverso le sue fotografie, immortalando in momenti più significativi, più importanti, come la vita quotidiana. Le abbiamo dedicato una sala che diventerà soprattutto sala stampa perché è stato anche un giornalista, un giornalista che ha scattato fotografie che raccontano le immagini di un territorio. L'ha descritto nella sua evoluzione, nel cambiamento dei costumi, l'ha fatto sempre con il sorriso, con la sua bicicletta, con il suo motorino. È stata una figura eminente di questa città che meritava sicuramente di avere un luogo in cui tutti potessero ricordarlo. Il rinnovo della sala è stato curato dall'architetto Paolo Bigi, con gli uffici comunali guidati dall'assessore De Bortoli. Beh, innanzitutto diciamo che un altro obiettivo raggiunto da questa amministrazione, quando siamo arrivati nel 2016, questa struttura era un po' cadente, abbiamo fatto un sacco di cose, tra questi il sindaco ha dato questo input di mettere a posto anche una sala importante, come questa qua, forse la più importante dopo il Consiglio Comunale e gli uffici del sindaco evidentemente, perché qui si fanno riunioni a tutti i livelli, si accolgono gli ospiti importanti e comunque è una sala storica dove si sono elaborate molte cose. Dunque ne siamo orgogliosi, ringraziamo proprio i progettisti e le imprese che hanno lavorato e oggi le presentiamo ricordando al domicinato.